valuta caso per caso, non è uguale per tutti, è un vestito che noi cuciamo addosso alla richiesta di ogni entità e credo anche che sia un punto distintivo di infocanare promotion and consulting che andate a vedere caso per caso situazione 1, situazione 2 e trovare un pochettino la soluzione migliore a volte come detto prima anche dicendo no, perché è facile dire sempre sì però se i numeri e le condizioni non sostengono il progetto, come dicevo prima, per avere determinate agevolazioni bisogna rispondere a determinati requisiti, inutile rincorrere un determinato modello di pianificazione fiscale quando magari ci sono delle altre soluzioni meno blasonate, meno sbandierate che però sono alla portata di tutti quindi